Ciao ragazzi! Ciao! Quelli che vedrete adesso sono dei video un po' vecchietti che però abbiamo ritrovato sul computer e siamo morti dalle risate quando li abbiamo guardati perciò ve li vogliamo far vedere assolutamente sono un po' scemi, ve lo diciamo subito eh! Va bene! Buon divertimento! Ciao! Eccolo! Fai vedere la maglietta? E si vede al contrario... Ma no la panza! Ma dai cosa c'è? Ma perché? Vabbè vi lasciamo ai vostri video scemotti Ciao ciao! Ciao! Tutto qui è un bel paesino Ogni di qui non cambia mai E' così che la gente vive con semplicità Buongior! 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 Ecco il Transformers con il suo vassoio Lo stesso pane venderà E' dal giorno che arrivai Qui non è cambiato mai Ma che vita è questa qua? Buongiorno bello! Venite bambini E' divertentissimo camminare sul cornicione Non è vero! Non fatelo! Guardate! Venite venite! Aspetta! Guardate come sono brava a fare lo scivolo sul tetto E... Via! Uuuu! A che cosa deve fare? Brave! Aspettate! Guardate se lo faccio così quanto sono brava Eeeh! Eeeh! Aspetta aspetta! E così è ancora meglio! Wuhuuu! Ah! E mi sono tenuta con il mento Era tutto calcolato ragazzi E' bellissimo! Anche io la soppare Anche io la soppare Vieni, vieni piccola Brava! Anche io la soppare Vorrei imparare Che carina! Mi fai la fatta? Si! Così, così e così Così prima Fatta E dopo così Fatta Fatta Ecco Fatta Ah! Lo compriamo? Vuoi vedere? E' un po' grande No! Lo compro quando ero grande Io me lo compro adesso Me lo compro adesso così Quando divento grande Io me lo metto Ah! In anticipo? Si, in anticipo E' un po' grande